Lo scorso anno sono stata operata perché soffrivo di endometriosi, una malattia che mi impediva di restare incinta e ho scoperto anche di essere celiaca che con l'endometriosi provoca un cocktail micidiale, in questo periodo sono entrata in depressione, io e Leonardo ci siamo anche lasciati, dopo l'operazione non ero sicura di poter avere figli, ho dovuto aspettare altri esami, ora però sto bene, aspetto un bambino da Leonardo che nascerà a Natale, lo confida agente in edicola all'attrice Laura Torrisi, ora che l'amore con Leonardo Pieraccioni è tornato a gonfie vele, Laura racconta, ho aspettato gli esami del sangue prima di festeggiare l'arrivo del bimbo di cui non sappiamo ancora il sesso, poi io e Leo siamo scoppiati a piangere, lui stava addirittura svenendo dall'emozione, intanto a casa Pieraccioni e Torrisi fanno in scena le prove di genitori, ci alleniamo a cambiare i pannolini a un cane di peluche.